90 e 500 MHz di radio antenna blu, il prossimo pezzo in ascolto è un 45 giri esplosivo dell'estate prossima. Falzone senza di te! 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 più che mai cosa dire, come fai a restare solo tu, proverò comunque uscire, no, 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 senza di te, il volo che c'è, senza di te, no, no, la vita cos'è, senza di te, il volo che c'è, senza di te, no, 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 la vita cos'è, il volo che c'è, senza di te, no, no, la vita cos'è, senza di te, no, la vita cos'è, come fare difficile, senza di te, redanzione per i nostri peccati, senza di te, dove sei, come fai a restare, senza di te, senza di te, il volo che c'è, senza di te, no, no, la vita cos'è, senza di te, no, no, la vita cos'è, senza di te, no, no, la vita cos'è, senza di te, senza di te, no, no, la vita cos'è, senza di te, no, no, la vita cos'è, se fai a restare, senza di te, no, la vita cos'è, senza di te, no, la vita cos'è,